Ernesto Starita vestirà la maglia della Fidelisandria. Nelle scorse ore la società azzurra ha trovato l'accordo per far approdare il calciatore in Puglia. Il giovane, classe 96, è un esterno d'attacco di proprietà della Provercelli. Arriverà alla corte di Mister Favarin con la formula del prestito. Nell'ultima annata ha militato nel Pisa, nella terza serie professionistica, collezionando dieci presenze ed una rete. A breve potrebbe arrivare anche la firma del centrocampista offensivo Nicola Mancino, classe 84. Le parti sarebbero molto vicine. Intanto, oltre al difensore Angelo Tartaglia, è stato richiesto anche il centrocampista Dimitri Bisoli. Il calciatore, 22enne, sarebbe finito nel mirino del Brescia, squadra con la quale la dirigenza azzurra ha intavolato una trattativa. Sempre con i Lombardi si parla del possibile approdo destinazione Andria del giovane attaccante Marco Valotti, classe 95, rientrato dal prestito al Lumezzane. Le due trattative non dipenderebbero l'una dall'altra.